Euro Regione News Il rilancio di una villa, il rilancio di un territorio Inaugura sabato 29 marzo il progetto Colli Orientali, terre da vivere insieme nella rinnovata Villa Nachinica Bassi a Corno di Rosazzo grazie a una sinergia tra pubblico e privato, un esempio molto forte di sinergia ci risponde il sindaco di Corno di Rosazzo, Loris Basso Sicuramente è stata intenzione dell'amministrazione comunale fin da subito nel recupero di questa importante villa che il comune ha acquistato da un privato e quindi è stata valorizzata la villa in sé per sé come stava con dei lavori di riforma importanti ma soprattutto si è voluto inserire in questa villa dei contesti delle nostre attività produttive vuoi nel settore enogastronomico ma anche quello delle sedute Ci saranno importanti ricadute turistiche Tutto il progetto ruota nella promozione del territorio da una parte questa enoteca dei Colli Orientali del Friuli farà da promozione ai prodotti enogastronomici ma ci sarà anche una bottiglieria ma oltre un infopoint turistico con piacere ho appreso la visita la scorsa settimana il vicepresidente della regione Pozzonello il quale fin da subito ha proposto la villa come una sede di un infopoint turistico di turismo FWG Avete ascoltato Euroregione News Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti